Dunque, l'oggetto di questo video è quello di fare un cancello di una staccionata in legno una cosa molto semplice, quindi qui ho cercato l'inglese Fence, staccionata, wood, legno, gate, cancello Perché dico cancello? Perché le staccionate, soprattutto i cancelli, hanno una struttura simile a questa quindi noi cercheremmo di fare una staccionata con un tot di assi verticali 2, 4, 6, 8, 7, 8 assi e poi due assi orizzontali e poi almeno una che gli sta in mezzo è una cosa abbastanza semplice per le prime lezioni di Blender tuttavia la cosa che volevo farvi osservare e che noi cercheremo poi di simulare è di fare in modo tale da dare la sensazione che sia realistico quindi che ci siano delle imperfezioni nella forma Ok, allora una volta avuto ben chiaro insomma come è fatta vedete che è fatta fondamentalmente da un elemento che è verticale e che poi si restringe leggermente, ripetuta 8 volte e poi due elementi che sono verticali, orizzontali scusate e in più un elemento diagonale che cerca di arrivare da un estremo all'altro Ok, allora andiamo in Blender e vediamo un po' di strutturare il tutto quindi la prima parte del video sarà proprio la modellazione semplice di questa cosa quindi cerchiamo di fare in modo tale che questo cubo abbia un aspetto simile a un asse ok, quindi come facciamo? facciamo S dunque lo facciamo in modo tale da vederlo di fronte 1 quindi 1 nel tastrino numerico 5 allora questa cosa qua cercheremo di fare in modo tale che abbia delle dimensioni attendibili quindi abbia dimensioni lungo la X non certo 2 metri ma lo facciamo per esempio 0,20 ok e poi facciamo la Y 2 metri 2 metri forse è più fin troppo alto possiamo fare un metro e mezzo un metro e sessanta ma quello che è insomma quindi la facciamo un pochino ah no, sulla Z un metro e mezzo invece Y che diventa il nostro spessore perché la Y è la parte diciamo sul retro, vedete quindi per essere lo facciamolo di 1 centimetro 0.0206 ok, insomma ecco una cosa così vedete che questo assomiglia a un asse perfetto allora questo qui è l'asse di partenza quindi ci siamo persi quindi dimensioni 0.2 0.06 abbiamo detto la Z 1.6 ok 1 il tastrino numerico vediamo davanti quindi se vi ricordate dell'immagine dobbiamo prima di modellare di fare qualunque tipo di modellazione duplichiamo in maniera tale da avere un template anche per fare questi assi orizzontali e l'asse diagonale quindi andiamo sempre qui facciamo Shift D quindi da qui terremo fuori gli assi verticali e Shift D da qui l'asse diagonale allora e veniamo al nostro tasto destro su questo asse e questo asse dobbiamo modellarlo un attimino quindi andiamo in Edit Mode facciamo facciamo Z così Z serve per poter vedere in trasparenza ma soprattutto quando si A per selezionare quando si seleziona col B la parte di sopra siamo sicuri di aver evidenziato tutti i vertici no? sennò succedono cose strane e poi estrudiamo in alto con la E E estrude estrudiamo lui estrude lungo l'asse Z quindi di default senza fare niente clicco il tasto sinistro e poi shrinkiamo però solo lungo la X quindi S X ok e poi confermo col tasto sinistro del mouse e poi facciamo ancora E e poi facciamo S X e facciamo cerchiamo di farlo leggermente a punta ok quindi la prima cosa che abbiamo fatto è di ottenere l'asse di averlo abbiamo fatto questa specie di rotondamento in realtà l'abbiamo fatto perfino troppo appuntito quindi volendo possiamo correggere leggermente nel senso fare S X ecco farlo leggermente meno appuntito e poi posso anche fare Alt e mi seleziono questo magari con 1 ok faccio Alt e seleziono questo anello S X e lo faccio leggermente più largo ok questo per rifarmi un po' di più alla struttura che ha questo anzi in realtà lui ne ha molto più insomma ne ha uno solo in pratica 10 lungo ma noi facciamo 2 tanto per quello che quindi abbiamo praticamente questa qui la struttura del nostro del nostro asse 1 ci vediamo davanti allora questo asse lo facciamo ancora facciamo un po' di beveling c'è praticamente ctrl B che sappiamo che ci rende praticamente non proprio squadrato tutto tutto il cosa ma ci permette di farlo leggermente più arrotondato ricordiamo che per prima per farlo bene occorre essere in Edit Mode anzi andiamo in Object Mode e la cosa fondamentale è di controllare che la Scale e la Rotation siano tutte di default a 0 e a 1 non è questo il caso quindi cosa facciamo facciamo o andiamo in Object Apply e poi Rotation Scale che vedete che mi ha zerato la scala e va bene a questo punto andiamo in possiamo andare in Edit Mode con Tab selezioniamo tutti i vertici e poi facciamo ctrl B ctrl B e poi muovendo il mouse vedete che viene aggiunto una serie di vertici che permette di arrotondare leggermente quindi da un'immagine un pochino meno standard alla nostra asse va bene allora rivediamola sempre dall'alto sappiamo che dobbiamo metterne 7-8 usiamo un piccolo trucco per cui andiamo in forse si può fare anche in Object Mode uno delle modi più semplici è quello di andare qui sulla chiave inglese specificare il Modifier Array e vedete che l'array mi permette di duplicarlo per il numero di volte mettiamo 7 non mettiamo tantissime perché adesso la distanzieremo un attimo quindi attenzione che io l'ho fatto allineato così con la x in là e visto che qui il default è che aumenta di 1 sulla x lo vedete così è chiaro che se voi avete delle assi che non sono questi quindi siete allineati sulla y o altro dovrete cambiare questo però vi consiglio di seguire quello che sto facendo in modo tale che vi ritrovate quindi siamo sulla x la x è il primo numero ecco dunque qui numero 1 si d'accordo ma lo facciamo un pochino più non 1,0 ma lo facciamo leggermente distanziati quindi per esempio 1,2 anzi vediamo un po' prendiamo ispirazione quant'è il buco fra i due fra due assi ce n'è un po' ma non ce n'è tantissimo quindi direi che 1,3 dovrebbe essere abbastanza corretto va bene allora adesso il prossimo step è quello di mettere i due assi orizzontali quindi prendiamo uno di questi assi in object mode facciamo R90 ok e ce lo spostiamo sul nostro sul nostro sulla nostra palizzatina facciamo ancora S X sul rosso poi continuiamo a muoverlo e a fare S X cercando di renderlo più o meno aderente ci basiamo un po' su questo vedete che praticamente equivale alla distanza una volta che abbiamo trovato il posto giusto quindi abbastanza in alto quindi abbastanza in alto lo mettiamo qua ad esempio ok questo diciamo che va bene così però attenzione non va benissimo perché per essere realistico dobbiamo spostarlo un pochino vediamo dall'alto con 7 e cerchiamo di metterlo proprio a contatto ok non troppo però tendenzialmente deve essere abbastanza a contatto ok poi volendo possiamo applicare lo scherzetto del control B quindi andiamo in edit mode con ah prima di fare questo scherzetto in object mode dunque facciamo in object mode dobbiamo assicurarsi di avere la scale e la rotation azzerate e quindi facciamo prima mi ho fatto da object apply c'è in realtà un altro modo basta fare spazio e chiedergli di come si fa a fare la scale no clear scale vediamo un po' apply no adesso non c'è qua quindi controllà direi che è un ottimo sistema controllà che è apply e facciamo apply rotation scale quindi 0 e 1 e a questo punto andiamo in edit mode control B e poi muoviamo leggermente per ottenere anche qua un piccolo arrotondamento di questo di questo asse va bene allora 1 ci allontaniamo postiamo con lo shift eccetera duplichiamo questo signore verso il basso con insieme a shift D ok Z quindi lo facciamo più o meno allineato lo mettiamo verso il basso quindi mi ha ottenuto i due assi fatti così bene ora dobbiamo mettere il terzo il terzo asse diagonale il terzo asse diagonale lo prendiamo che abbiamo qua in object mode lo ruotiamo di non sappiamo ancora bene quindi facciamo così 1 ci spostiamo qua più o meno in mezzo e poi facciamo R e lo ruotiamo cercando di vedere se riusciamo se ha senso ok quindi in realtà per che abbia un senso dovrebbe coprire un po' tutti quindi facciamo così lo facciamo leggermente più lungo come asse quindi S Z ok e proviamo a vedere se così copre un po' di più no facciamo S Z ancora di più vediamo se ci basta potrebbe anche andare grandi linee così allora supponiamo di farlo così quindi dobbiamo praticamente tagliarlo facciamo nella realtà lo taglieremo però prima di tagliarlo lo mettiamo in modo tale che sia più o meno aderente agli altri quindi così e poi passiamo partiamo con la sega allora la sega dobbiamo tagliare questo qua in questa direzione oh la cosa che ho visto che in realtà è più semplice è andare in edit mode facciamo Z così riusciamo a selezionare i punti i vertici bene anche quelli nascosti facciamo B anzi facciamo A per selezionare B prendiamo questi vertici allora il discorso è di trascinarli farli slittare lungo questo edge questo c'è un modo si chiama slide e c'è edge slide vedete che io per cercare i comandi uso lo spazio che mi permette di cercare le cose prendiamo edge slide e poi vedete che posso muovere con precisione il punto A faccio lo stesso mestiere anche per questo quindi faccio di nuovo un edge slide di questo vedete che questo qui è la cosa lo facciamo in modo tale ok che sia lì ecco un mestiere analogo lo facciamo anche per questi punti quindi facciamo edge slide vedete che si ricorda l'ultima cosa che abbiamo creato e quindi abbiamo fatto ok questo punto quindi a questo punto l'unico pezzo che ci avanza è quello quindi togliamo lo z lo vediamo vedete che è abbastanza buono arrotondiamo anche questo signore se vogliamo quindi con la stessa tecnica che vuol dire in object mode ctrl A facciamo rotation scale ricordatevi questa cosa è rotation scale perché io non lo sapevo ma poi in blender mi ha spesso e volentieri mi ha prodotto mi ha condotto a dei problemi quindi dove eravamo allora qui facciamo object mode edit mode A ctrl B e gli facciamo muovendo leggermente il mouse ok gli facciamo anche questo un leggero arrotondamento una cosa che ho visto e che sembra che le normali non siano posto sotto perché non vedo vedo una trasparenza strana quindi cosa facciamo andiamo in object mode selezioniamo questo oggetto di sotto ok facciamo un tab e andiamo a vedere un attimo come sono messe le normali le normali ecco vedete che infatti c'è qualcosa che non va in queste normali allora facciamo così deselezioniamo tutto anzi selezioniamo soltanto con B da parte di sotto questa e poi vi avevo fatto vedere che c'è la possibilità di ricalcolare le normali che però non è stato troppo felice di farlo quindi facciamo così selezioniamo la faccia forse secondo me potrebbe essere un difetto del proviamo a selezionare questo edge loop non me lo fa selezionare forse prima per errore l'avevo cancellato possibile perché mi sembra che manchino proprio delle facce infatti infatti vedi che qui ci c'è questa faccia dunque facciamo selezioniamo questa facciamo F ok oh non so perché mi è prima andata via una faccia come adesso ho selezionato praticamente l'edge loop e poi ho fatto F è tornato la faccia spero proprio che a voi non incappiate in questo problemino qui però c'è anche un altro problemuccio nel senso che anche qui manca un'altra faccia non ho capito come è fatto a farla sparire qua F ah niente finiamo se faccio F sarà un bacchetto della versione di dietro F e ho partito tutte le facce che errore comunque controllate sempre che tutto sia in regola togliete le normali direi che questa staccionata potrebbe essere a posto se non fosse che è un pochino come dire è un pochino troppo regolare nel senso che l'oggetto di anche di questo corso è di dirvi anche delle cose un pochino meno banali rispetto ad altri corsi che ho fatto io in passato e quindi aggiungiamo qualche cosa di artistico che vuol dire andiamo in Edit Mode anzi in Object Mode selezioniamo il nostro oggetto in questo caso tutte queste palizzate e introduciamo un po' di varianti le varianti come facciamo a farle semplicemente semplicemente andiamo in Edit Mode poi selezioniamo questo il primo paletto CTRL R e aggiungiamo un po' di di Edge Loop tasto sinistro e poi lo spostiamo in modo tale da da vedere un po' questo questi Edge Loop insomma è una posizione un po' interessante poi mettiamo un po' di varianti quindi per le varianti mettiamo il Proportional Editing mettiamo in modalità conness e poi andiamo a selezionare dei punti quindi selezioniamo dei punti magari dei punti quindi dei punti qua o qua e proviamo a muoverli però dunque facciamo G vedete che con G mi compare questo cerchio bianco che dice quanto se muovo il mouse quali altri punti vengono diciamo alterati quindi se muovo il mouse vedete che lui in realtà mi sta manipolando ah si perché sono tutti collegati quindi ho fatto una piccola cavolata e cioè torniamo indietro un secondo quindi torniamo qua e quella cavolata è che voglio renderli indipendenti perché le modifiche le voglio fare su ogni ognuno di questi segmenti e quindi semplicemente dobbiamo essere in Object Mode e applichiamo il modificatore che è quello dell'array quello che aveva ripetuto gli facciamo Apply e a questo punto effettivamente possiamo selezionare non è sempre un oggetto ma se io faccio Tab e poi faccio A e poi faccio L mentre sono oppure anche senza L non ce n'è bisogno basta che faccia Control R e lui praticamente mi aggiunge delle cose insomma ah potevo fare anche prima di fare l'Apply questa cosa qua effetti vabbè ma comunque andiamo avanti così allora ripartiamo da quello che vi ho detto prima quindi Connected Edit Mode andiamo Vertici prendiamo qua facciamo G vedete che muovendo questo si muove solo lui qui cerchiamo di muoverlo un po' di modificarlo in maniera di introdurre arbitrariamente delle delle qualche cosa che lo renda un pochino diverso dal cioè quindi lo mettiamo leggermente zoppo leggermente inclinato stessa cosa lo facciamo anche qua si forse può venire anche farlo questo mestiere di visione prima ma non ha importanza nel senso che prendiamo questo lo storciamo un po' lo modifichiamo un po' sempre con G sto muovendo poi andiamo qua aggiungiamo anche qui queste cose G insomma facciamo un pochino di movimento le incurviamo leggermente contro l'R anche questo ok G G questo G questo G questo contro l'R diciamo lo stesso mestiere anche qua vedete che se lo faccio singolarmente riesco a ottenere una cosa che molto probabilmente sarà asimmetrica adesso questo è un po' già girando ma comunque l'idea è che non farli completamente diciamo uguali quindi mettergli delle ah qui tra l'altro se quando faccio il G riduco l'angolo e poi muovo eh sì se il cerchio è troppo piccolo non facciamo G ok se è troppo piccolo però diciamo che agisce un pochino più limitatamente G ok e poi facciamo l'ultimo questo signore qua e qui facciamo un po' di un po' di cose ok ok stesso mestiere lo facciamo andiamo in object mode selezioniamo ancora questo edit mode qui selezioniamo eh anche qua con ctrl r aggiungiamo un po' di movimento selezioniamo con G eh vedete che poi alla fine facciamo delle cose più o meno simili no ehm ctrl r questo e anche qua G adesso poi come come decidete di fare voi non ha importanza ma l'importante è di object mode selezioniamo l'ultimo pezzo e anche qua ctrl r ah no dobbiamo andare in edit a ctrl r qui vedete che ok quindi simuliamo qui magari visto che l'altro ce l'ha incurvato ok quindi vedete che a questo punto abbiamo un una struttura che non è più completamente regolare ma diventa diciamo un pochino più adatta alla cioè a sembrare insomma un po' più naturale ok ok allora questo è tutto per la parte di modellazione del nostro ma possiamo vederlo da questa parte mi sembra più interessante no che vediamo proprio tutte le due cose prossimo video vediamo un po' la texturizzazione ricordatevi sempre di fare il file salva come e salvatevelo questo qui mettiamo staccionata staccionata punto blend ok e ci vediamo al prossimo video